terzo giorno signori abbandoniamo l'accampamento allora oggi l'idea è quella di raggiungere i 3.100 metri praticamente prendendo un bike shuttle prendere poi una funivia e da lì ci sarà un paio d'ore di pc in spalla e adesso si sale in cabinovia spettacolo ragazzi spettacolo siamo saliti con la cabinovia siamo a quota 2.600 e adesso si sale a 2.900 e proveremo a conquistare la cima dei 3.100 o 3.300 adesso vediamo com'è il tempo signori siamo a quota 2.800 metri e si continua a salire l'ossigeno inizia già a scarseggiare a causa altitudine spero si veda un po' il panorama dopo perché è un po' così 2.900 al mandriccio ecco le prove ecco dove si salirà raga 3.000 metri e si sale non ci si arrende orcella conquistata 3.123 che bello è la discesa dal mandriccio è la discesa dal mandro spettacolo allo stato puro 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 spettacolo allo quello buon으로 spettacolo agli Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.